Ciao a tutti! Allora, facciamo un giro di nomi Valeria Stella Alice Ginevea Nizza Ma soprattutto Sharon Allora, io il banana quiz l'avevo fatto Non sono stata messa! Non sono stata messa! Io l'accompagnavo Va bene, recuperiamo stasera Ma non ti vergognate! Ma io tantissimo Ma vergognatemi! Stanotte non dormirò Ma ti ricordi? Io di te mi ricordo tantissimo Partiamo con la gara! Prima domanda vai! Che c'è? Sono venuta! Così parlo con te! Ah, vuoi parlare con me? Va bene Sono tutti pazzi qua Chi è considerato il più grande pugile di tutti i tempi? Via! Chi è che sono i pugili? 5 secondi Posso usare internet? Posso usare internet? Ma non puoi! I pugili? Chi cazzo sono? Mike Tyson! Mike Tyson dice lei Potrebbe essere Mike Tyson! Mike Tyson! Allora Secondo me Secondo te è sbagliata? Eh sì, è sbagliata Lo so Dimelo Mohamed Ali Allora La risposta corretta è Io! Mohamed Ali Quindi hai sbagliato Hai perso una banana La mia banana non l'ho persa Dov'è? Eh, la sto cercando Non c'è Ah, non c'è Stasera te la fai Te la fai la banana stasera Io non ho capito niente Non ti preoccupare Tanto ti mettiamo in onda Non ti preoccupare C'è anche la banana qua? C'è anche la banana lì Che se la trovi vai in finale Come si dice pesce in inglese? Fish! La risposta è corretta! E vai! In quale paese si trova il... Legge lo te Non capisco In quale paese si trova il Kilimanjaro? Ah, lo so! Io lo so! Io lo so! Io lo so! Cinque secondi! No! Tre secondi! Dai! In Marocco! Marocco, dice lei! Marocco! 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 Viva il Marocco! Allora Kilimanjaro è in Marocco Kilimanjaro no Non è in Marocco Secondo me è in India In India Il Marocco è il migliore di tutti Ma lui è marocchino e dice che non è là Ma è in Africa Viva il Marocco! In Africa! Cosa? È in Africa Niente! L'Africa è un continente No, 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 non ho capito La risposta corretta è... Tanzania E quindi... Quindi hai perso la seconda banana Vuol dire che non puoi più sbagliare Brava! Chi ha interpretato... Non so leggere! Leggila a te! È difficile l'ultima parola Non la so leggere! Chi ha interpretato il ruolo di Joker nel film Suicide Squad? Via! Ma è un nome! No! L'attore! Chi è? L'attore! L'attore! Gabriel Garco! Gabriel Garco! Cosa? Non ho capito! Allora la risposta corretta è... Jared Leto Chi cazzo è? Ma come? Dai! È quello che ha interpretato Joker! Meglio del mio banana quiz che non è andato in onda non ci sarà mai niente! Siete tutti degli incubi! Io non ho capito! Io invece ho capito tutto! Posso dire una cosa? Vai! Allora però sono fiera del mio anno scolastico perché l'anno scorso sono stata bocciata con sei materie e lui se lo ricorda benissimo! Io quest'anno ho tutti ottenuto! Lorenzo ha nuotato le tue unghie! No! No! Entrambe le unghie! Possiamo commettere? No! Allora! Le mie quando le ho fatte erano un sogno però adesso stanno cadendo devo rifarle! Questa che bello! Questa che bello! Ma non è questione di bellezza! Sulla sulle mie unghie! Vai! Lei vuole parlare comunque! Fanno abbastanza schifo! Fanno schifo! Ma cosa le mie! Sulla sulle nostre unghie! Guarda che belle! Dai! Dammi! Ma scusa ma! Dammi dai! Le mie sono cadute! Cioè adesso devo rifarle! Appena le rifaccio torno! Le mie sono bellissime! Ragazzi argomenti di alto spessore! Ascolta ma tu in tutto questo come fai a sopravvivere? Non lo so! Tristelle Valeria! Vuoi salutare qualcuno? Allora innanzitutto saluto a mia madre! Come si chiama? Susanna! Susanna! E volevo chiederti una cosa! Mi state strappando i capelli! Io? No! Volevo chiedere! Adesso deve fare lei il banana quiz! Ah ma che bello! Dirigerlo io al posto tuo? Dirigerlo tu al posto mio? No comunque non puoi! Saluto! Mi mando un bacio! Stella Conoli con due i finali su Instagram! Seguitevi! Ciao! 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 Quale infermità colpì Beethoven? La cecità! No! No 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 era sordo! 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 Ha coinposto tutte le sue liriche da sordo! Era sordo!